Oggi una giunta straordinaria ad ossea dell'amministrazione di Capitolina, cogliamo l'occasione per intervistare uno dei massimi esponenti di questa giunta, l'assessore dei lavori pubblici Maurizio Pucci. Buon pomeriggio, assessore. Buon pomeriggio a lei. Una giunta molto importante in cui si sono definite delle questioni importanti su quel quadrante di Roma all'inizio della giunta, però sotto al municipio c'erano dei cittadini che chiedevano sì, non si pensi soltanto a ripristinare la legalità, ma si pensi a dare servizi a noi che non ne abbiamo da troppo tempo, buche, scarsa illuminazione e quant'altro. Cosa sta predisponendo l'amministrazione Capitolina? L'amministrazione Capitolina intanto sta ricominciando a mettere in moto quel municipio che evidentemente per le cause note si era bloccato o comunque aveva fortemente rallentato la propria attività. Questo riguarda in modo particolare la manutenzione stradale e ovviamente per quanto riguarda me ho messo a disposizione del delegato del sindaco, Sabella, tutte le forze necessarie perché si possa intervenire rapidamente per le situazioni più gravi sapendo che alcune risorse sono già a disposizione mentre altre arriveranno nelle prossime settimane. I cittadini hanno regione, quindi è evidente che da parte dell'amministrazione oltre a riportare la legalità va riportato anche il funzionamento delle attività proprie che sono quelle di dare i servizi. Ascolti Assessore, di pochi giorni fa la notizia circa un piano antenne in vista del giubileo, un milione di euro stanziato dall'amministrazione Capitolina in cosa consiste? Io le chiamerei l'operazione Tetti Puliti, così l'abbiamo chiamata ed è una delibera peraltro firmata da forze di maggioranza e di opposizione che andrà al voto tra qualche ora, non so se entro la fine di questa settimana o all'inizio della prossima e poi vi sarà una delibera di giunta che stabilirà il regolamento attraverso la quale coloro che fanno il rifacimento quindi ristrutturano il palazzo, il rifacimento delle facciate e contemporaneamente mettono le antenne uniche sia quelle digitali del resto che l'altra al suo pretetto e quindi facendo una grande operazione di decoro avranno l'occupazione del suolo pubblico a titolo gratuito volendo potranno mettere anche la pubblicità sui palazzi laddove ovviamente ci siano le condizioni e il 10% della imposta derivante per legge all'amministrazione comunale sarà loro detratta quindi una grande occasione perché se a questo ci si aggiunge il 45% che sono le detrazioni da parte dello Stato evidentemente è un'occasione unica che i condomini e le imprese possono sfruttare per rendere più bella e più decorosa questa città Assessore, le chiedo un commento su una questione che sta portando vari attriti all'interno delle varie coalizioni politiche pochi giorni fa con il DEF si è in sostanza definanziata la Roma Latina un'opera che era strategica, definita strategica per la capitale un'opera che permetteva sia di raggiungere ovviamente la zona puntina ma permetteva anche un deflusso del traffico a Roma ecco come vede questo definanziamento da parte del governo? Personalmente mi dispiace perché avevo lavorato quando ero direttore della Presidenza qualche anno fa alla Regione Lazio che vi sia stato questo definanziamento dopodiché se il governo ha assunto questa decisione evidentemente non c'erano più le risorse necessarie speriamo che questa decisione possa essere ripresa e riconsiderata nelle prossime settimane, nei prossimi mesi perché oggettivamente lo stato almeno attuale della Roma Latina è francamente indecoroso Roma si sta preparando al giubileo già l'avevamo accennato nella precedente intervista si sta pensando di acquistare nuovi mezzi di trasporto anche perché quelli che ci sono effettivamente sono in condizioni fatiscenti cosa prevede questo progetto? Prevede più che l'acquisto il leasing di 300 nuovi automezzi di pullman, di autobus che potranno rimpinguare il parco macchine dell'Atac e quindi dare un servizio sicuramente più efficiente in primo luogo ai cittadini e poi ai pellegrini che numerosi arriveranno nel nostro paese a cominciare dall'8 dicembre del prossimo anno di quest'anno fino alla fine del prossimo anno Lei è la delega anche alla protezione civile e come ci si sta organizzando come si sta organizzando questa macchina questa importante e imponente macchina amministrativa e organizzativa per quell'evento? Ecco qui noi dobbiamo considerare due fattori uno e il primo che considero peraltro prioritario è quello del ruolo dei volontari per il giubileo il ruolo dei volontari sia di protezione civile sia di coloro i quali vorranno dare una mano sarà essenziale l'amministrazione comunale le amministrazioni non hanno così tante risorse così come vi furono nel giubileo precedente quindi non potrà assumere nuove persone quindi il ruolo dei volontari sarà assolutamente strategico e la figura di Papa Francesco quindi di sua santità credo che da questo punto di vista davvero ci possa dare una mano contestualmente ovviamente sia per quanto riguarda la protezione civile del Comune di Roma in d'intesa con la protezione civile della Regione Lazio noi utilizzeremo tutte le strutture tutti i macchinari che abbiamo a disposizione allo scopo di di svolgere quel compito che è il compito essenziale cioè quello di assistere i pellegrini quello di assistere i cittadini quello di fare in modo che nessuno si perda in questa città e che tutti riescano a raggiungere le basiliche o i luoghi di preghiera Nel frattempo Roma dovrà far conto anche con l'emergenza profughi di cui in questi giorni si sta dibattendo molto in questo senso come state lavorando? Beh intanto bisogna riportare un po' di legalità mi pare che anche da questo punto di vista gli interventi che sono stati fatti in alcuni campi alcuni giorni fa credo che diano la testimonianza della necessità di superare una fase nella quale tutti potevano fare tutto e nessuno controllava niente è evidente che su questo versante fermo restando l'accoglienza per tutti coloro i quali sono profughi provenienti da paesi sono persone ben più disgraziate e infelici di quanto possiamo essere noi e quindi da questo punto di vista devono essere per questo accolte non per questo queste stesse persone piuttosto che altre non possono non rispettare le leggi italiane e quindi chi non le rispetta deve ritornare nel proprio paese Sempre riferimento al Giubileo Papa Francesco ha parlato di una basilica attorvergata perché si deve puntare sulle periferie sulle periferie l'amministrazione Marino del resto ha detto dall'inizio di voler puntare e come vede questo progetto del Papa? Insomma mi sembra assolutamente coerente con la storia di sua santità un uomo che proviene da un paese come l'Argentina in cui il tema delle periferie di Buenos Aires è una questione che lo ha assillato anche umanamente, personalmente credo in modo decisivo e è evidente che lo stato delle periferie romane che non è quello ovviamente di Buenos Aires è tale per cui lì vi sono le persone che più hanno bisogno di assistenza lì vi sono le persone che hanno bisogno di più rispetto ad altre di avere il conforto della Chiesa credo che questa scelta sia una scelta giusta perché corrisponde esattamente alla scelta dell'amministrazione Marino che è quella che poi verificheremo anche nelle prossime settimane di interventi strutturali nelle periferie per alleviare le situazioni di sofferenza e anche direi di incremento dei servizi che l'amministrazione comunale dà Un'ultima domanda riguarda la pubblica illuminazione lei sa che la nostra trasmissione è anche un modo per confrontarsi con i cittadini proprio oggi un cittadino ha chiamato dal sesto municipio avevamo con noi presente il presidente Scipioni contestando che si sentono abbandonati in realtà dal Campidoglio che non esiste un piano illuminazione che hanno timore e terrore ad uscire la sera oltre al piano delle luci LED presentato e alla stampa ci sono piani specifici per alcuni territori dove il degrado purtroppo si fa sentire in modo particolare? Beh direi proprio di sì ora io non so quale sia la situazione specifica se la situazione specifica è all'interno di un consorzio di una zona O se invece di un piano di recupero urbano piuttosto che di un toponimo piuttosto invece di una casa che non è censita o una via che non è censita in nessuna di queste tre categorie o è una via comunale ma se è una via comunale dovrebbe avere l'illuminazione non può non avere l'illuminazione pubblica bisogna individuare qual è l'elemento specifico per poter riuscire a dare una risposta che sia precisa una cosa è chiara che per quanto ci riguarda noi stiamo lavorando molto per le zone o appunto con i consorsi e pensiamo di fare su questo una assemblea cittadina proprio dei consorsi e delle associazioni dei consorsi per rimettere in moto quel meccanismo virtuoso che ha portato nel corso degli anni tanti servizi primari e secondari a queste persone che si sono costruite a un certo punto della propria vita una casa e che poi sono state condonate ma che ancora purtroppo in parte aspettano i servizi sempre riferimento alla pubblica illuminazione come risponde a chi dice che gran parte del raccordo annulare è buio e che quindi è troppo pericoloso molto bene vuol dire che lo segnaleremo all'ANAS perché è di competenza dell'ANAS ma non perché mi voglia togliere ci mancherebbe altro chi sta sul raccordo annulare sta nell'amministrazione comunale di Roma lo segnaliamo subito all'ANAS e anche alla CEA perché evidentemente ci sono problemi purtroppo anche lì di furti di rame e in misura anche molto consistente per cui intere parti del raccordo sono oggettivamente pericolose a causa di questo voglio soltanto segnalare che la galleria di Acilia che è rimasta chiusa per alcuni giorni è rimasta chiusa per alcuni giorni per il motivo appunto analogo per un motivo analogo ovvero sia verrà stata il furto di un chilometro e mezzo mi pare di di rame che è come sapete elemento essenziale per portare l'energia quindi sono dovuti agire lavorare per quattro giorni per rimettere la situazione in sesto ringraziamo l'assessore Maurizio Pucci per l'attenzione che ci ha riservato grazie a lei grazie a voi tutti grazie a voi